Gianmarco Piccioni e Valerio Nava sono i primi due rinforzi che Rimini ha messo a segno per il mercato. Da una parte un attaccante Piccioni classe 1991 proveniente dal Teramo e dall'altra un difensore Nava classe 1994 che approda in bianco rosso dal proprio Senza. Attacco e difesa rinforzati quindi in attesa degli altri colpi che sicuramente verranno effettuati dalla società. Una voglia di di scatto per Piccioni che arriva a Rimini dopo un avvio di stagione difficile in cui non è riuscita a collezionare alcun gol ma non ha mai avuto dubbi sulla meta del suo futuro. Ho trascorso un anno a Rimini, meraviglioso, ho passato anche l'estate qui, mia moglie si è trovata benissimo e quindi diciamo che non ho neanche preso in considerazione altre proposte perché altre proposte sono arrivate in questo mercato di gennaio ma la mia priorità è stata subito quella di venire qui. Stessa voglia di approdare a Rimini anche per Nava che nonostante la giovane età ha già collezionato esperienze in top club crescendo nelle giovanili dell'Atalanta e collezionando anche qualche presenza nazionale under 20. Ho scelto subito di venire qui perché comunque conosco della gente qua e mi hanno parlato molto bene sia della società sia dell'ambiente insomma e quindi ho deciso di venire subito qua. Ma in Rimini intanto pensa anche all'uscita, firmano la rescissione di contratto sia Busce che Serafino ma per vedere altre entrate non occorrerà aspettare troppo.